Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Romano, ho 47 anni e sono il candidato sindaco della lista civica 5 Stelle, sono un ingegnere, lavoro in una grande industria e il mio lavoro mi ha portato ad affrontare in passato e anche oggi problemi sia tecnici sia di pianificazione industriale, programmazione e controllo dei progetti. Sono sposato, ho due bambine e mi ritengo, sono un cittadino formiano di origine napoletane. Ci tengo a sottolineare questo perché qualcuno forse se ne è già accorto e sicuramente se ne è già accorto e l'ha scritto. A me fa piacere che l'abbia scritto perché io vengo da una città e da una zona l'acquicultura ha influenzato molto Formia. Qui a Formia abbiamo avuto illustri cittadini napoletani, abbiamo avuto Pino Daniele, abbiamo... adesso forse funziona? Adesso non funziona, va bene, non vi preoccupare. Penso che mi ascoltate lo stesso. Grazie.